Come possiamo calcolare il performance level di un circuito di sicurezza utilizzando il software sistema di IFA? Innanzitutto perché calcolare l'affidabilità, quindi quest'indice, il performance level di un circuito di sicurezza? Lo dobbiamo fare, i costruttori di macchine lo devono fare perché è richiesto dalla direttiva macchine. Nell'allegato 1, l'allegato contenente i REST e i requisiti essenziali di sicurezza, al REST 1.2, in realtà 1.2.1, la direttiva macchina impone ai costruttori di macchine di realizzare dei sistemi di comando che siano affidabili. La direttiva macchina quindi ci impone di rispettare questi REST, questi requisiti qualora applicabili. Ovviamente la direttiva macchina dà delle informazioni di carattere generale. Per entrare nei dettagli, dobbiamo sicuramente andare a consultare una norma di tipo armonizzato alla direttiva macchine. La norma in oggetto, in questo caso, è la 13849 tratto 1. La norma ci permette sia di calcolare l'affidabilità da raggiungere, sia di capire come poi possiamo verificare se il circuito di comando che ha progettato il progettista elettrico, piuttosto che il progettista pneumatico, idraulico, eccetera, sia effettivamente affidabile. In questo esempio utilizziamo appunto il software sistema per modellare un circuito di sicurezza e quindi calcolarne il performance level. Questo circuito non è altro che l'insieme di una barriera fotoelettrica di sicurezza, quindi una barriera che legge l'introduzione, ad esempio, dell'arto umano, comunque di un oggetto all'interno dell'area monitorata. La barriera di sicurezza darà un segnale alla logica di sicurezza che processerà questo segnale e farà in modo che un'elettrovalvola di sicurezza vada a sezionare l'alimentazione pneumatica della macchina. Quindi barriera fotoelettrica di sicurezza, logica di sicurezza e elettrovalvola di sicurezza. Torniamo sul nostro software sistema. Abbiamo aperto il progetto esempio calcolo performance level, autore S-Safety Antonio Salvati. La funzione di sicurezza è il sezionamento dell'alimentazione pneumatica della macchina provocato dall'attivazione della barriera fotoelettrica di sicurezza. Per prima cosa andiamo a inserire qual è il performance level che vogliamo raggiungere. In realtà per il progettista questo è un dato che gli fornisce chi ha realizzato la valutazione dei rischi della macchina. Possiamo inserire direttamente il performance level che vogliamo raggiungere piuttosto che possiamo seguire il diagramma ad albero che ci propone la norma, la 13849, tratto 1, e in funzione dei tre indici S che è la gravità della lesione, F che è la frequenza o il tempo di esposizione al pericolo e P che è la possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno, possiamo definire il performance level da raggiungere però portandoci dietro queste tre informazioni, le informazioni sui tre indici. In questo caso dobbiamo raggiungere un performance level pari a D. Andiamo a modellare il circuito di sicurezza, quindi andiamo a inserire all'interno del software le informazioni in termini di affidabilità e di categoria, quindi di come è realizzato il circuito relativo appunto al circuito e alle sue componenti. Quindi andiamo qui in sottosistemi, abbiamo già caricato una barriera fotoelettrica di sicurezza, la barriera ha un performance level pari ad E. Questo è un dato che ha dichiarato il costruttore della barriera. Carichiamo la logica di sicurezza, quindi andiamo in libreria, in questo caso abbiamo la libreria della Omron per cui supponiamo di utilizzare una logica, un modulo di sicurezza della Omron, supponiamo di utilizzare questo. Quindi semplicemente trasciniamo all'interno dei sottosistemi il modulo di sicurezza. Andiamo ad aggiungere le informazioni relative all'elettrovalvola, o la prendiamo sempre da libreria o possiamo deciderla di inserirla manualmente. Quindi la inseriamo in questo caso manualmente, andiamo qui, diamo il nome del sottosistema, quindi scriveremo elettrovalvola di sicurezza. Ovviamente è bene identificarla in un modo un po' più forte, quindi indicare sia il costruttore sia il modello dell'elettrovalvola. E andiamo a inserire il performance level di questa elettrovalvola. Abbiamo varie strade, oggi prendiamo la più semplice, cioè quella di inserire direttamente il performance level. Andiamo in questo caso sulla scheda di sicurezza dell'elettrovalvola. In questo caso abbiamo scelto un'elettrovalvola della Festo, questa permette di raggiungere performance level pari a D, ce lo dichiara il costruttore, e quindi qui andiamo direttamente a inserire performance level pari a D. A questo punto dobbiamo indicare la categoria. Indichiamo che possiamo raggiungere una categoria 3 o 4. Questo dipende da una serie di considerazioni che sono tra l'altro definite all'interno della norma. Mettiamo per categoria pari a 3. In questo caso abbiamo qui l'elenco dei tre componenti, dei tre dispositivi di sicurezza con cui è realizzata la funzione di sicurezza. Se torniamo su SF, quindi sulla funzione di sicurezza, e andiamo qui sul performance level, vediamo che il performance level che abbiamo raggiunto è un performance level pari a D. Quindi pari a quello che dovevamo raggiungere, a quello che c'è stato indicato dalla persona che ha realizzato la valutazione dei rischi. Ovviamente questo è un video molto veloce, non abbiamo visto tutte le potenzialità e le possibilità che ci fornisce il software, però è una piccola panoramica che spero vi sarà utile. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.